Soffiate un po' sul fuoco, la Lega soffia sul fuoco? Ma cosa vuole che lei risponda? Noi abbiamo un Ministro dell'Interno che è totalmente scollegato dalla realtà, non conosce neanche i numeri o probabilmente il suo staff gli passa dei numeri sbagliati, perché dire che Lombardia e Veneto non stanno collaborando nella gestione di quello che è la suddivisione dei clandestini, poi vediamo se sono profughi a seguito della valutazione delle varie commissioni. Le ricordo che più del 90% degli ultimi esaminati, degli ultimi clandestini che hanno fatto la domanda di richiedenti asilo, la domanda gli è stata rigettata perché non c'erano le condizioni, quindi già qui è una presa in giro, c'è un'ipocrisia di fondo a monte nella gestione mediatica di questa vicenda. Da un punto di vista pratico, ripeto, la Lombardia ha circa il 9-10% dei clandestini distribuiti sul proprio territorio, il Veneto ha due volte il numero di clandestini spediti dalle prefetture o spediti comunque dal Viminale sul territorio, che ha la Toscana del democraticissimo Rossi che si fa fare le foto con profughi clandestine e compagnie cantante, quindi ripeto c'è un'ipocrisia di fondo, noi non è che cerchiamo, noi non soffiamo sul fuoco, parliamo come… siamo fra la gente e parliamo di quelle che sono le problematiche reali, che è una cosa inaccettabile che delle persone che democraticamente, pacificamente come è successo a Roma, quanto a Treviso protestino, vengono manganellate dalla polizia e non vengono assolutamente tutelate in quello che è un loro diritto fondamentale, cioè quello di protestare rispetto a un'imposizione inaccettabile che arriva dal centro verso le periferie. Se questo deve essere visto come soffiare sul fuoco, questo segna ancora di più la misura della distanza che c'è fra un governo totalmente incapace, con un ministro dell'interno altrettanto incapace nel gestire quello che non è un'emergenza ma è un business e lo si è visto in tante realtà rispetto alla vita reale dei cittadini.